C'è abbondanza di pompe Allora due panini, Gabriele Chiesa il primo, due panini lo scegni qua e poi per esempio pancetta che è sette e un formaggio Un formaggio, quello che vuoi Tra due minuti partiamo Due minuti La fattezza identica Tutto bene? Maurizio Davide Ciao Tutto bene Noi ci conosciamo Ok pronti Via Io vi do un fiorellino ciascuno da mettere Buongiorno 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 Lina Santillo Santillo Perché lei? Buongiorno 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 No ma non ha potuto essere qui presente con noi Si scusa tantissimo E ha mandato come delegato il signor Peroni Redento, si chiama, di nome Ehm È un bel nome che fu anche lui vittima il 28 maggio del 74 qua in piazza e come sapete tutte le volte che Pacilchia è partita per raggiungere Perugia ci siamo sempre soffermati per un minuto di silenzio davanti alla stella che sta dietro alle mie spalle e vorrei ringraziare appunto Peroni di essere qua con noi se vuoi dire due modeste parole, grazie. Un grazie a voi perché non soltanto a nome mio ma da casa di memoria un ringraziamento perché questa è un'occasione della quale noi possiamo fare un pauso che aiuta a mandare la memoria, il vostro segno è quello di solidarietà e sensibilità ad alcuni eventi importanti come questo ci aiuta a trovare la memoria perché noi vediamo negli ultimi anni più passi il tempo soltanto nelle occasioni o dei processi o delle situazioni particolari riguardanti quel fatto qui che la gente ne parla abbiamo paura che queste cose qui bastino nel dimenticatoio il vostro impegno questa occasione come ho saputo da mili anni una tradizione vostra da più anni fate questo è un ringraziamento è un piacere che per noi ci stiamo impegnando a mandare la memoria e per anni personalmente mi sono impegnato in queste cose perché quando ne parlavo le sentivo stavo male mi sentivo un senso di colpa di essere stato vittima di questo evento che mi trovavo qui di cui due persone e natali e talenti mi hanno fatto da scudo ero lì loro sono morti sono rimasto sotto loro il ricordo lì mi ha sempre accompagnato con un senso di colpa soltanto con l'aiuto dei nipoti che quando non ho saputo non ho mai trasmesso neanche a loro mi chiedevano ho dovuto abituarmi a rispondere e mi sono di nuovo impegnato a sostenere questa trasmissione del ricordo della memoria a voi grazie perché è una bella cosa state facendo vi ringrazio scusate va detto che domani mattina noi saremo davanti alla stazione di bologna a testimoniare il collegamento e la solidarietà tra queste due città di solidarietà di amicizia senso di pace e un grazie ancora so che andate passando anche da bologna siamo noi che vi ringraziamo per questo impegno a a conservare a fare memoria Gigi che tu vuoi dire due parole semplicemente per portare il saluto dell'amministrazione dal sindaco Emilio del Bono per me è diventato un appuntamento ricorrente da quando faccio la scusura vengo sempre a questa partenza e dopo fai com'è Ettore poi tu vieni anche tu in bici quasi quasi in pensione no ma è semplicemente per ricordare che in questa città l'impegno per la pace non solo non è mai mancato ma è stato molto concreto poche parole e tanti fatti tanti passi verso la pace e lo abbiamo sempre fatto soprattutto negli anni più recenti in direzione anche della Bosnia ricordo molto bene le marze che abbiamo fatto passo dopo passo voi fate anche pedalato a dire che c'è un impegno come dire completo cioè qualsiasi attività qualsiasi azione che costruisce nel quotidiano con piccoli genti ma uno dietro l'altro mai slegati tra di loro è il modo migliore per costruire la pace per cui io vi ringrazio a nome della ministrazione per portare questo segno che è tutto bresciano nello stile in mezzo alla marcia di Perugia Assini grazie e qui abbiamo un altro guerriero della pace dove c'è la parola pace c'è lui è venuto a salutarci e ad affidarci il saluto da portare a Francesco ad Assisi oggi volevo ricordarvi una cosa importante nel senso che noi con i ragazzi e con i bambini faremo un gesto di solidarietà con i bambini e i ragazzi della Siria ad Aleppo i ragazzi i bambini musulmani e cristiani si ritrovano a pregare insieme per la pace noi oggi lo faremo qui ma oggi ai ragazzi ricorderò anche voi e dirò c'è qualcuno che in tanti modi porta a luce questa pace c'è bisogno di questa attenzione non solo a noi c'è uno sguardo internazionale quello di cui abbiamo bisogno perché queste questioni ci chiamano e si chiamano mondo e non solo Brescia e a volte dobbiamo anche riuscire a uscire un po' dei nostri confini buon cammino davvero ecco noi dove saremo ci fermeremo un minuto per pregare insieme ai bambini di Siria ci riaccompagniamo perché credo che sia importante poi se vedi qualcuno che io potrei non faccio caso però per strada vai 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 metto questa io un minuto pronti? 3, 2, 1 ciao Gavri buona strada grazie 450 vamos eccoci qua aspetta aspetta che si riuniscono tutti c'erano gli amici di Castanedolo che probabilmente c'è lì il sindaco in piazza che voleva salutarli se ci fermiamo tutti vediamo